Fondamentali, settimo punto, controlli, ancoraggio e trasferimento che avvengono insieme. Controlli, ancoraggio e trasferimento. Sono in pretrazione, sono andato in ancoraggio, sono in ancoraggio, sono allineato, le dita sono rilassate, ora cosa succede? Sono in apnea, sono perfettamente in ancoraggio in questa posizione, ora cerco di rilassare l'avabbraccio, l'avabbraccio deve diventare una catena, le dita della mano dell'arco sono rilassate, cerco di trasferire la forza di trazione sui muscoli dorsali, devo sentire la scatola della mano della corda che ruota leggermente verso il basso e verso la colonna vartenale, sempre con gli occhi al bersaglio, non ho ancora mirato, non sono ancora in mira. Questo è il settimo.